Ciao, in questo video voglio parlarti dell'attivazione al Reiki della Natura Magica, che è un sistema di Reiki meraviglioso che ci aiuta proprio ad andare, un'attivazione energetica, che ci aiuta ad andare a lavorare in connessione con la Madre Terra e tutti i suoi regni. Se mi conosci, già mi segui, probabilmente hai già ricevuto altre attivazioni legate agli esseri fatati e elementali, che io amo tantissimo, ma ti ricordo anche che tutte le attivazioni che ti propongo sono attivazioni che ho ricevuto in primis per me, perché volevo appunto sperimentare questa energia e ti posso dire che questo tipo di energia è fortemente collegata all'altra, ma è anche complementare. Questo sistema energetico è presidiato dal Lord Merlino, infatti c'è tutta una parte in cui Lord Merlino ci dà degli insegnamenti importanti su come utilizzare questo sistema per la nostra crescita spirituale, per la nostra guarigione, la purificazione, per aumentare la nostra vibrazione, per trasformare quelli che sono anche i programmi negativi del nostro pensiero, per aiutarci a radicare le nostre energie, aumentare anche la nostra consapevolezza e entrare maggiormente in connessione con la Madre Terra e con i regni degli esseri elementali. E anche ci aiuta a sviluppare una sorta di chiaroveggenza molto importante per vedere meglio gli esseri della natura e posso dirti che funziona, ve l'ho sperimentato e funziona alla grande. È un sistema che ovviamente lavora con delle energie molto forti, potenti, ma anche allo stesso tempo energie naturali è davvero bellissimo, vengono dati diversi spunti di lavoro proprio attraverso la canalizzazione di Lord Merlino. È un sistema che potrai utilizzare proprio, diciamo, per te, ma anche per lavorare poi con le altre persone ed essendo un'attivazione master la potrai trasferire anche ad altri. Spero che tu voglia fare esperienza con questo sistema per incrementare la tua connessione con la Madre Terra, per essere anche di servizio, di supporto e per entrare in maggiore connessione con i meravigliosi esseri elementali, quindi con fate, filletti, gnomi e così via. A presto!